Su un campo così sapevamo di venire a giocare una partita durissima e con un Cernic così in forma questa vittoria ha un valore ancora più grande. Partita strana, nel primo set noi siamo entrati molto concentrati e soprattutto ci funzionava molto bene il servizio, abbiamo messo la loro ricezione in grandi difficoltà. Dopo loro sono cresciuti soprattutto nel fondamentale della ricezione ed è stata una partita combattuta, combattuta alla pari, infatti finita al tie-break ed è giusto così. Finisce la regular season, siamo stati bravi e come ci definiscono alcuni dei cecchini perché abbiamo vinto tutti e otto gli scontri diretti e quindi partiamo con un buon vantaggio. Naturalmente dobbiamo fare di tutto per non fare la lotteria dei play-out e quindi provare ad arrivare nelle prime due posizioni. Partiamo da una buona base, siamo i primi in classifica, è difficile fare i calcoli perché non abbiamo un modello di prestazione dell'anno precedente ma penso che bisognerà cercare di arrivare tra le prime due il prima possibile e quindi vincere i primi scontri diretti assolutamente.